La posizione è semplicemente per dichiarare, non per il consigliere, non si fa, non si fa, non si fa, non si fa, non volevo semplicemente leggere uno strato, no, no, e non lo dico io, lo racconto io la mia posizione. In base all'ultimo decreto, il 78 del periodo, la violazione della disciplina dell'ordinamento contabile e dei prodotti che sono stati e leggiati da tecnici dal consigliere di chiese dove rispondiamo la violazione dell'ordinamento contabile. In ordine alla procedura di acquisizione e di pagamento dell'edifico di bilancio, con un'altra possibilità di una continuità che di che fattasi a causa delle dissistenze dei presposti prescritti dal testo unico, ha l'effetto di espromettere il rapporto sinallarmatico tra chi ha materialmente compiuto il tapposentito a debito con il bilancio e questo progetto comunale. Per questo motivo, per questo motivo, noi diciamo che la responsabilità non solo è doveroso per questo consiglio comunale a divenire al riconoscimento del reddito, ma è impensabile che la responsabilità sia ritracciata oltre dall'edice perché questo manleva i consiglieri comunali a una responsabilità che praticamente non mi compensa, perché non sono stati loro a far ridurre il reddito, ma è stato intelligente e non può il caso il valegolo che ha inserito questo dedico comunale e non altro, e quindi facendo il reddito, oppure a permesso di perpetrarsi nell'affettare gli interessi che non possono essere riconosciuti. Noi vanno già a riconoscere insieme alla detenza, alla sorta capitale, anche gli interessi. Anche quella è un'appelazione dell'ordinamento contatto e nel momento in cui noi lo facciamo, lo approviamo, noi siamo corresponsabili, rubiamo quel contratto che c'è tra il dipendente tra un momento che ha fatto, che ha compiuto il caso e il ragazzo, e ci svolgiamo, poi i detti al pagamento di quel dato che invece è stato calzato l'atto. E per questo motivo, che diceva anche il Consiglio, anche per pallevare i consiglieri comunali di maggioranza che votano questo atto, noi chiediamo che si abbassa questo stracciare del Consiglio, e poi basta anche se noi abbiamo constatato che questo debito non è elettabile, questo, questo è constatato, lo dico, però lo portiamo, lo dico, lo dico, lo dico, lo dico, e poi dovrà provvedere l'ordine competente nella lotta di contatto.